Stanno proseguendo degli accertamenti tecnici che hanno avuto inizio il 20 dicembre e che sono stati calendarizzati fino al giorno 12 gennaio. Sono accertamenti tecnici svolti per effettuare sostanzialmente delle verifiche sullo stato dei luoghi rispetto al momento della Commissione dei Fatti. È un accertamento doveroso per poter documentare quello che era lo stato appunto dei luoghi in relazione alla Commissione dei Fatti.